Il prossimo 12 e 13 agosto è in programma Roccella Ionica incontra da Melissari sulla spiaggia adiacente al porto delle Grazi l'evento Jova Beach Party 2022 che vedrà la presenza di circa 30.000 spettatori al giorno per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza la polizia locale di Roccella Ionica insieme all'amministrazione comunale ha emesso la specifica ordinanza che disciplina le modalità di circolazione stradale nell'ambito urbano per le giornate interessate all'evento l'accesso a Roccella non sarà consentito dalle 10 del 12 agosto alle 3 del 13 agosto e dalle 10 del 13 agosto alle 3 del 14 agosto i veicoli d'entrata saranno filtrati presso le rotatori di accesso della variante alla 106 ed eventualmente deviate per impedirne l'accesso in area urbana all'altezza dell'intersezione della strada statale 106 con via Giardini sul lato sud e all'altezza dell'incrocio della SS 106 con via Corrado Alvalo sul lato nord in deroga al divieto sarà consentito l'accesso ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati già muniti di vetrofania per il parcheggio gratuito nelle aree in sosta a pagamento del comune di Roccella che non dovranno quindi munirsi di un'ulteriore autorizzazione l'accesso a Roccella sarà inoltre consentito ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati che non espongono la vetrofania di autorizzazione al parcheggio su Stiscebru nonché ai veicoli dei dipendenti di imprese pubbliche e private con sede nel comune di Roccella Ionica solo se muniti di specifica autorizzazione rilasciata al comando di Polizia Municipale l'autorizzazione può essere richiesta a partire da lunedì 1 agosto e fino a mercoledì 10 agosto compilando il modulo reso disponibile presso il comando di Polizia Municipale inoltre è consentito l'accesso a Roccella Ionica ai veicoli a servizio di persone disabilità muniti di apposito contrassegno per auto, gli autobus di linea, ai veicoli di servizio navetta e al servizio di parcheggi pubblici e privati ed ancora ai veicoli dei clienti di strutture ricettive previa esposizione di copia della prenotazione e infine è consentito l'accesso ai veicoli per il trasporto, il carico e lo scarico di merci e il servizio delle attività commerciali, ai veicoli per consegna a domicilio e ai veicoli di artigiani per assistenza tecnica in ogni caso è fatto di vieto assoluto di transito e circolazione su tutto il territorio comunale compreso l'incrocio SS 106 lato sud e l'incrocio SS 106 via Corrado Alvaro lato nord per il 12, il 13 e il 14 agosto e quindi